Buon pomeriggio, eccoci qui ritrovati per la conferenza stampa che si è tenuta oggi a Casteldebole a Bologna per la partita che si disputerà domani sera al Dallara contro il Verona. È stata una conferenza stampa abbastanza insolita perché è emerso, è venuto fuori più il lato emotivo di Tiago Motta e quindi il lato più umano che diciamo da professionista. Ovviamente si è parlato del Verona che comunque come ha detto lui è una squadra in questo periodo molto in forma e quindi sarà una squadra assolutamente da non sottovalutare e da rispettare. Detto questo mi soffermerei più sul lato emotivo di Tiago Motta che mi è piaciuto molto e che ha ribadito che innanzitutto il lato emotivo durante la partita nel senso che poi noi lo vediamo benissimo quanto emotivamente è coinvolto e lui lo dice cioè io vivo proprio la partita al 200 per cento più forte di me sono molto emotivo. In realtà questo aspetto ritengo che sia fondamentale sia stato fondamentale anche per i giocatori in campo perché si è creata proprio questa sinergia fra lui e i giocatori proprio nel mentre della partita. E poi cosa molto molto bella ha parlato della sua enorme gratitudine nei confronti dei tifosi anche nei confronti di questa petizione per far rimanere Tiago Motta qui a Bologna tant'è che lui ha detto io non credo neanche di meritarmi tutta questa questa vicinanza, questo calore nel senso che dice ovviamente lui gli fa tantissimo piacere ma dice io non faccio altro che fare il mio lavoro e parlando dell'eventuale decisione che poi prenderà se rimanere o meno gli è stato chiesto proprio se questa decisione viene presa verrà presa solo dal punto di vista del professionista senza guardare a quanto dal lato umano Bologna gli sia vicino e lui assolutamente ha detto ma assolutamente no nel senso che io non sono solo professionista sono umano e non posso non non separare questa questo lato quindi questa questa vicinanza del Bologna è qualcosa che comunque mi mi gratifica tanto e mi emoziona quindi è venuto fuori molto questo lato umano emotivo di Tiago Motta che all'inizio era molto difficile no riuscire a interpretare e diciamo proprio a far venire anche fuori e invece invece sta venendo fuori e ne siamo molto felici perché insomma sicuramente al di là del fatto ovviamente che Tiago Motta e ci fa ci fa gioire tantissimo vedendo vedendo il suo gioco però insomma e cominciamo naturalmente a volergli anche bene e poi altra un'altra curiosità proprio è venuta fuori sul suo percorso da calciatore e fra l'altro ha anche sottolineato che c'è stato un momento in cui si pensava che non potesse neanche più tornare a giocare perché nell'epoca dell'Atletico Madrid quando giocava l'Atletico Madrid aveva aveva subito ben tre interventi chirurgici ad un ginocchio quindi l'intervento di Preziosi a cui va la sua immensa gratitudine di portarlo in Italia è stato fondamentale per cui lui in realtà ha ripreso a giocare qui in Italia per poi diventare allenatore quindi ha espresso anche questa immensa gratitudine nei confronti di Preziosi quindi insomma è stata una conferenza stampa insolita ma molto piacevole dove sono emersi appunto degli aspetti sono emersi degli aspetti di Tiago Motta che di solito rimangono sempre più in secondo piano perché viene sempre diciamo messo come come priorità viene messa come priorità la parte professionale la parte calcistica la parte del gioco giocato e invece invece oggi sono venute fuori queste queste questi questi begli aspetti oltre ovviamente ha parlato di Urbansky ne ha parlato molto bene di un ragazzo che sta crescendo tantissimo si dimostra di eh di meritarsi assolutamente di di quando c'è la possibilità di giocare che anche i giocatori nell'allenamento si accorgono di questa del valore che ha questo 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 giovane ragazzo e ha parlato di Lucumi e Calafiori che possono tranquillamente giocare insieme che non c'è una competitività tra loro assolutamente perché sono due giocatori diversi estremamente preparati estremamente qualificati ma i diversi quindi che possono giocare anche insieme e poi insomma questo è un po il riassunto della conferenza stampa di oggi quindi ci rivediamo per il post partita di Bologna Veruna e un abbraccio